nell'ultimo numero uscito in edicola la rivista tv sorrisi e canzoni ha intercettato marco mingardi fresco di vittoria tu sì che vales facendosi raccontare tra le altre cose qualche curiosità in più sui suoi progetti futuri ma anche sul rapporto con maria de filippi alla quale deve molto il percorso del trionfatore dell'ultima edizione della trasmissione di canale 5 è stato per così dire piuttosto bizzarro e alternativo rispetto a quello di altri concorrenti passati mingardi era infatti stato eliminato ma aveva avuto accesso alla finale tramite un ripescaggio che a detta sua a del miracoloso qualcuno mi ha dato un aiuto da lassù penso a tutte le persone che non ci sono più come mio papà alessandro che ho perso a causa di un incidente quando avevo nove anni e che mi ha lasciato un vuoto enorme ma sento sempre la sua presenza accanto a me ha commentato mingardi con grande nostalgia ma la sua vittoria in realtà è stata legata a qualcosa di molto più terreno ovvero le sue grandi capacità come imitatore di voci una tecnica la sua affinata puntata dopo puntata il suo è stato un percorso fatto da uno sviluppo e un miglioramento continui che maria de filippi ha particolarmente apprezzato puntata dopo puntata la conduttrice l'ha visto sempre meno altezzoso e sempre più sicuro sul palco e si è sentita in dovere di complimentarsi a proposito dell'atteggiamento iniziale che la de filippi aveva avuto nei suoi confronti marco mingardi ha avuto modo di fare una sorta di mea culpa mi sono riguardato tante volte aveva ragione lei non ero io ero troppo carico prima di esibirsi ho atteso a lungo e la tensione era altissima quindi quando è stato il mio turno volevo spaccare tutto però ho esagerato e sono stato antipatico anche a me stesso non sono così chiedo scusa a tutti le critiche dei giudici mi hanno aiutato voglio continuare a migliorare e a imparare ora sta accadendo quello che ho sempre sognato la gente capisce quello che voglio comunicare quando canto